Il film Matrix del 1999 è già un seminario. Di per sé il film stesso si presenta come, se uno lo sa leggere, se uno sa vederlo, come un'iniziazione alla comprensione di certi misteri della vita e di certe dinamiche della vita e dell'evoluzione della coscienza. Ma un conto è guardare il film e cercare di comprendere e un conto è entrarci dentro, dentro il film e dentro la simbologia esoterica che è nascosta. Matrix svelata è il titolo di questo seminario. Ci vuole un seminario per spiegare la simbologia perché una parte è conosciuta, una parte pubblica, una parte diciamo tutti hanno accesso e un'altra è essenzialmente legata ai misteri. Conoscere i misteri antichi e moderni attraverso la visione in gruppo di una pellicola importante è un'esperienza unica perché mette insieme la forza del video e quindi la forza delle immagini che colpiscono direttamente l'inconscio e la forza della spiegazione di un docente che trasmette un'energia, trasmette un fuoco ai partecipanti e fissa dentro di loro delle visioni e delle consapevolezze che influiscono profondamente nella vita di tutti quanti. Matrix stessa si presta per essere una avventura della coscienza in quanto ogni tappa del film rappresenta un'iniziazione, un passaggio dell'essere umano verso potremmo dire il suo processo di individuazione. Sostanzialmente è la storia dell'anima, è la storia della luce dell'anima che si manifesta e che inevitabilmente si trova a dover combattere contro una forza che è da un certo punto di vista antagonista ma allo stesso tempo è dentro l'essere umano stesso che nella terminologia esoterica viene chiamato il guardiano della soglia. Quindi diciamo che il tutto parte dal comprendere come c'è una guerra, una guerra che sul piano della personalità dentro Matrix è fatta in un certo modo e oltre il piano della personalità nell'anima di tutti noi avviene in un altro modo e determina la nostra stessa evoluzione e quindi questo ci può mettere in contatto con una visione essenzialmente duale nella vita non perché noi dobbiamo esaltare la dualità ma perché ci permette di comprenderla questa dualità per ritrovare l'unità che questo concetto di unità è già semplicemente nascosto nella parola del protagonista Neo che è la parola One, le lettere che formano One cioè Uno e che ritrova l'unità passando per la Trinità. La Trinità chiaramente è la sua compagna Trinity e già qui noi semplicemente accennando delle parole ma senza entrarci dentro perché lo scopo è quello di farlo insieme in una giornata già noi possiamo avere davanti la possibilità di sviscerare quello che è il concetto di unità dualità Trinità e quindi essenzialmente entriamo nei misteri perché dobbiamo parlare di Dio, dobbiamo parlare della creazione degli universi, dobbiamo parlare della nostra provenienza spirituale. L'Uno è la monade, la dualità è la dualità tra anima e monade e la Trinità è la monade, l'anima e la personalità che sono un po' la chiave della nostra evoluzione così come questa Trinità la ritroviamo poi in un senso galattico, in un senso cosmico, in un senso assolutamente spirituale con il padre, la madre e il figlio, il padre e il figlio, il spirito santo, la trimurti induista, Brahma, Vishnu e Shiva eccetera 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 noi dobbiamo fare anche un collegamento tra le varie culture, le varie religioni e vedere come si fondono in questo film e in questo film scopriamo allora che se lo utilizziamo come strumento per accedere ai misteri e parlare quindi per esempio della guerra nei cieli, la prima grande guerra che si combatte nel momento in cui un universo viene a nascere dobbiamo andare per forza a prendere gli antichi testi della gerarchia spirituale quindi la dottrina segreta e altri testi l'insegnamento del tempio per vedere come una scienza perché è scienza però una scienza di tipo spirituale chiaramente non fisico particellare o quantistica anche se se ne possono fare tanti di parallelismi e di connessioni è l'unica che ci fa entrare dentro di noi nella nostra nel nostro processo di risveglio di coscienza nel nostro percorso di individuazione e realizzazione nella missione che tutti abbiamo di trovare l'uno dentro di noi anche fuori di noi attraverso la coppia sacra e soprattutto la lotta col nostro guardiano della soglia ma noi lottiamo contro il guardiano della soglia e vinciamo la nostra sfida al risveglio all'evoluzione solo se sappiamo perché siamo qui e cosa è vero e cosa è falso cos'è reale e cos'è irreale per questo gli antichi in sanscreto cantavano spesso il grande mantra asatoma sat gamayah che tra l'altro è stato messo anche alla fine come colonna sonora di uno dei film della trilogia in una versione del mantra molto interessante asatoma sat gamayah e il mantra poi continua però vuol dire dall'irreale dall'irrealtà conducimi alla realtà cioè da matrix portami a vedere ciò che c'è oltre matrix e matrix in questo caso per esempio nella cultura egizia di cui parleremo è considerata come iside allora oltre matrix vuol dire svelare iside iside svelata cosa c'è dietro il codice quindi con un linguaggio potremmo dire futuristico ma per certi versi anche attuale questo film ci permette di toccare vivere i misteri per questo è matrix svelata la simbologia esoterica del film perché poi questi strumenti noi ce li portiamo nella nostra vita nel nostro quotidiano nei nostri rapporti per guarire per comprendere dove stiamo andando e per vivere ogni fase della vita con la consapevolezza che è scritta in un libro celeste un libro celeste dell'evoluzione di tutti quanti e poi va da sé che comprenderemo anche meglio perché la nostra società attuale che consideriamo moderna si sta muovendo tutta verso una direzione che riguarda la tecnologicizzazione di tutto quanto la robotizzazione di tutto quanto e quindi verso l'internet delle cose e il governo sostanzialmente delle macchine e di tutte quelle che sono apparati robotici che eseguono dei compiti e sono programmati per fare questo vedremo che ha tutta un'attinenza con la nostra vita vedremo come il mondo fa da specchio qualcosa che sta avvenendo dentro di noi quindi l'occasione di trascorrere una giornata insieme vedendo un film tutti quanti e fermandolo passo dopo passo per andare dentro a tutti i dettagli e i misteri che sono nascosti dietro questi dettagli è un'esperienza unica che ci sveglia completamente ci fa vedere tutto sotto nuovi occhi e non saremo mai più gli stessi è per questo motivo che noi ci teniamo a farvi vedere la simbologia esoterica del film Matrix insieme grazie a tutti